Importanti novità potrebbero arrivare nelle prossime ore in merito alla morte di Silvia Novak, la 53enne di origini tedesche ritrovata seminuda e semicarbonizzata il 18 ottobre a Oliastro Marina, frazione di Castellabate in Campania. Questa settimana a Roma sarà effettuata infatti la lettura dei dati raccolti dai RIS dell'Arma dei Carabinieri durante il sopralluogo effettuato mediante l'utilizzo del luminol tra il 22 e il 23 ottobre all'interno della villetta in cui vivevano Silvia e il suo compagno Kai. Un accertamento irripetibile attraverso il quale sarà possibile verificare se sono state individuate prove invisibili a occhio nudo e in particolare se sono presenti tracce ematiche all'interno dell'abitazione situata a soli 150 metri dal punto in cui è stato ritrovato il cadavere di Silvia. Nella frazione di Oliastro Marina, che in questo periodo dell'anno conta circa 80 abitanti, si attendono con apprezzione i risultati dell'accertamento. Così come si aspetta di sapere se il materiale biologico rinvenuto sotto le unghie di Silvia possa contenere il DNA del suo assassino. Intanto anche alla luce dei dubbi emersi sull'alibi del compagno, poiché allo Stato non c'è alcuna conferma ufficiale dell'esistenza di un video che lo ritrarrebbe dormire in giardino al momento della scomparsa della donna, in questa piccola comunità si fanno strada sospetti e paure.